di nuovo buona serata ben trovati da Firenze Smart in studio Mauro Ciuttini sulla variante di Valico tra il Bivia 1 e Badia il traffico è lento traffico intenso in direzione Firenze e ancora in A1 c'è un veicolo fermo anche qui in direzione Firenze tra Rioveggio e Pian del Voglio ci spostiamo sulla 12 rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia per un veicolo in avaria in direzione di Pisa ancora rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina direzione Firenze lavori a Firenze via dei Morelli intervento sul verde da domani orario 9 17 sarà interrotta la circolazione tra via del Ferrone e via di Santa Maria a Marignolle è tutto per il momento muoversi in Toscana è realizzato con Regione Toscana città metropolitana comune di Firenze Grazie a tutti